Bella ragazzi, è tardi e questo è un secondo video che faccio su questo canale per dirvi soltanto che inizierò questo canale insegnando qualche trucco di magia, cardistry e faremo molti video di vlog possibilmente se mi chiedete qualcosa ovviamente adesso il canale è iniziato quindi non ho nessun iscritto, poche visualizzazioni quindi non prendetemi per il culo e inizio il canale facendo dei pochissimi mazzi che ho il mazzo bicycle della marijuana, il ghost, black ghost, uno standard, due taglio standard, un wrat figo e il mio preferito è il canadette, siccome sono i mazzi che ho ma pochi perché ho iniziato la magia da un bel po' tipo due anni quasi tre anni però mi sono fermato un po' e volevo dire che io voglio inizio questo canale è così quindi questa è la mia faccia ciao ok e ci vediamo al prossimo video mostrando un trucco di magia e un tutorial mi chiedete voi sotto che tutorial volete oppure se fare un video normale se nessuno dice niente farò un video normale sperando che qualcuno mi segua ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao